buongiorno a tutti benvenuti a il consueto appuntamento con l'analisi settimanale di forex indici e commodity con il metodo hc cycle indicator e il volume profile quindi analisi tempo e volume il tutto per la settimana del 26 aprile 2021 partiamo immediatamente con la sigla gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità pertanto l'autore della presente video analisi non si assume nessuna responsabilità cerca eventuali danni diretti e indiretti relativamente decisioni di investimento prese dallo spettatore sono paolo pesino il fondatore del sito e prendi per tutti punto com vi invito a visitare il sito prendere visione di dei servizi che metto a disposizione delle dei clienti sia per chi vuole imparare a utilizzare l'analisi ciclica e l'analisi volumetica basata sul volume profile sia per chi vuole acquistare un servizio di segnali sia intraday che multiday sugli indici sulle valute sulle commodity sia per chi vuole un servizio di analisi e sul dax giornaliero dove tutti i giorni rilascio livelli di prezzo orari l'inversione del mercato e naturalmente i segnali intraday andiamo a vedere le performance in mese di aprile 447 punti per quanto riguarda gli indici e forex ancora zero perché non si sono ancora chiuse le operazioni che abbiamo a mercato e l'anno al momento non ha visto ancora nessun mese chiuso in negativo anzi mesi veramente molto interessanti 2020 abbiamo basta cliccare si può accedere al diario completo del 2020 cliccando su blog e su operatività potrete tutti i giorni vedere le operazioni portate mercato sia quelli in guadagno che anche quella in perdita visto che ci si permette sempre di diciamo di punzecchiamo perché chiaramente io devo sempre dimostrare tutto e quindi ho iniziato a inserire anche le operazioni in perdita così sono tutti contenti i medi trattori che hanno sempre da dire che le mie vetrine non vanno mai bene e quindi per cui verranno insegnate anche quelle negative ho già iniziato a ricevere mail dove mi viene detto che non le metto tutte perché a quanto pare non esiste che una persona possa prendere uno stop loss al mese e quest'anno sostanzialmente sta funzionando così però ahimè non me le posso inventare di operazioni negative quando non ci sono quando ci sono le vedrete tutte quante qua ok quindi ho deciso di andare inserire tutte quante guardiamo la settimana la settimana pardon che non avevo più aperto allora livelli risultati trading ok la settimana vediamo qua abbiamo preso lo stop sul dax proprio nella giornata di venerdì subito è recuperata in realtà ne abbiamo chiuso con due punti sotto e la giornata queste meno 38 punti nel talo chiuso in anticipo perché pensavo che andasse stop poi si è fatto più di 100 punti di profitto ci avrebbe fatto ma va bene uguale e nella giornata del 21 42 posizioni da 40 punti poi un bellissimo trading sul nasdaq con una posizione 65 ed 80 poche operazioni e come ormai chi è abituato a seguirmi lo sa radando da professionista faccio un'operazione al giorno raramente ne faccio due tipo benabini ho fatte due tendenzialmente quando la prima operazione l'unica operazione ma in profitto la giornata finisce tra l'altro non operazioni vado long se gira vado short io ho un'unica direzione prevista già al mattino e quando si verifica quella situazione io entro al mercato quindi cosa vuol dire vuol dire che il mio modo di fare trading e sa già che cosa farà mercato ok non ho bisogno di andare a tirare 300 mila linee fare poi testo croce e dire se rompe la resistenza nemo long se rompe il supporto nemo short perché quello non è fare trading quello è non sapere fare trading con l'analisi cicca i miei livelli di volume sono esattamente già al mattino alle 8 e mezza che cosa farà il dax per tutto il giorno e quindi vado a cercare le operazioni solo in un determinato orario il pre del professionista non è quello che fa 25 operazioni al giorno anche se è quello che in realtà gli abbonati vogliono avere vedere il 3 del professionista non è il trader che entra long rimane 15 giorni in intro down sugli indici e poi quando mercato ritorna al diciamo a livello allora dice di aver azzeccato prezzo questo non è il mio metodo di lavoro io vado long vado short perché andando long e andando short qualsiasi evento nel mondo possa accadere non avrà nessun tipo di problema di drawdown perché tutte le operazioni si aprono e si chiudono in giornata fate conto che dall'inizio dell'anno mi pare una volta siamo due volte siamo andati in overnight una sul dax e una sul nasdaq tutte e due sono andate in profitto le uniche due volte perché tutte le operazioni si aprono e si chiudono in giornata e vado long e vado short a me non interessa che tanto prima o poi il mercato tornerà perché era più grossa stupidaggine che si possa dire è vero che mercato sale da tantissimi anni ma che mercato prima o poi tornerà la non è assolutamente detto io ricordo che a marzo e si sono verificate situazioni sicuramente poco piacevoli con 6 mila punti di drawdown sul dax mi pare 7 8 mila punti di drawdown sul nasdaq e tre mesi di attesa perché il mercato tornasse la ecco non quel frangente lì abbiamo fatto dei grand bay trade anche a ribasso su il dax e sul nasdaq ok adesso direi di venire subito alla nostra cioè la mia consueta analisi quindi partiamo con euro dollaro euro dollaro siamo sul minimo ciclico e che era previsto per il 22 di in cerca è previsto per il 22 di aprile sono già assegnato sono già andato avanti con la nasi con il prossimo massimo previsto per il 30 di aprile siamo sulla vtl quindi bisognerà comunque attendere che si venga a verificare quello che si venga a verificare la rottura della vtl intanto acceso la lavagna andiamo a vedere dal punto di vista dei livelli cosa potere fare indubbiamente bisogna aspettare allora abbiamo un'area importante che questa un'area che ci vede cioè che vede il prezzo che vede il il prezzo fra il livello diciamo che va da 1 21 0 44 1 21 70 sono questi 70 pip sostanzialmente per un ingresso a mercato è un'area intera più che un'area diciamo singola è un'area intera che comprende veramente molti pips perché questa qua ok che vediamo di della bellezza di 300 pips a mio avviso un ingresso al mercato conviene attendere 1 21 e 70 quindi il momento sostanzialmente si sta un po fuori dal mercato quindi questo 1 21 e 70 per quanto riguarda l'euro dollar quanto meno ci darebbe la possibilità di avere questo vuoto che è vero che anch'esso è un supporto ma è probabile che mercato vada a rivedere questo livello che è perché comunque questo è l'area principale di grandi liquidità io francamente sono più per il ribasso di euro dollar quindi attenderei comunque i massimi civici infatti personalmente la rottura di 1 21 70 non l'andrò a prendere in considerazione per me si potrebbe prendere in considerazione qualcosa qua sopra ok quindi abbondantemente sopra a livello di massimo visto il 31 dicembre sia in area 1 23 48 praticamente ci sono questi sembra uno dice mantis che ci lasciano una marea di punti alle al mercato però io preferisco avere sicurezza ci sono troppi livelli che rompono le scatole e per me a questi 300 pips il mercato può anche sostanzialmente tenersi per quanto riguarda uno shot ovviamente primo livello che abbiamo a disposizione per poter andare al ribasso resta questo qua e quindi parliamo di 1 18 e 31 quindi sostanzialmente stare al mercato diventa molto complicato anche se essendoci poco nel senso che qui sostanzialmente volume vediamo non ne abbiamo una rottura di 1 19 e 46 darebbe comunque l'opportunità di prendere un eventuale ribasso e vado a mettere questo 1 19 e 46 perfetto andiamo a vedere adesso il cable gbp usd per fatto gbp usd cable interessante perché ha rotto le medie mobile cicliche ha rimbalzato se le medie mobile cicliche quindi il rialzo è diciamo dal punto di vista dell'operatività di analisi ciclica sicuramente corretto leviamo sul caspita di oscillatore che mi è stressato vederlo qua non voglio più vedere è bella l'opportunità di andare al rialzo cancelliamo anzi io lascio la vtl del ciclo 40 giorni semplicemente perché si può utilizzare poi come resistenza quindi secondo me siamo serenamente orientate al rialzo con il prossimo picco previsto per il 27 di aprire è il minimo già nella giornata di domani sostanzialmente andiamo a vedere dal punto di vista dei livelli gbp usd che cosa ci racconta ok il cable ok allora gbp usd vede subito una bella area di resistenza notevole quindi andrà presa con tanta attenzione che praticamente parte da qua ok fra l'altro non ancora raggiunta dalle dal mercato e quindi è area ancora a mio avviso vergine 27 vuol dire che abbiamo due giorni di tempo ecco che secondo me il long è un po conto producente andare a prendere io sarei più propenso andare a cercare un rimbalzo poi su quest'area sostanzialmente in questi livelli qui andare poi a cercare le indicazioni ribassiste su questi livelli prima di andare poi a prendere un momento non a meno che chiaramente non ci sia una rottura loro diventi supporto ma è tutta un'altra storia quel punto di vista di giorni vediamo poco quello è un po il dubbio che diciamo che che ho in questo momento perché abbiamo veramente pochi giorni un rialzo è più facile andare eventualmente poi a prendere questa occasione quella dell'otto maggio per andare a posizionarsi e long comunque andiamo a inserire quelli che sono livelli per poter prendere in considerazione 1.40.83 rimane un livello interessante per un long e invece per quanto riguarda lo short ovviamente la rottura di 1.36.70 però mi raccomando un eventuale short che possibilmente non mi piace un granché e andrà ad aspettare a prescindere la rottura delle medie mobile cicliche quindi importante questo anche se è evidente che il prezzo è abbondantemente sotto le medie perché siamo 1.36.70 come livello per lo short tra l'altro vedremo un bel vuoto mi piace il prossimo diciamo livello con il metodo chiaramente basato sull'analisi ciclic quindi andare a cercare i volumi sugli swing cicci vede come prossimo livello di supporto 1.33.77 andiamo a vedere adesso dopo gbp usd audi usd che non capisco perché deve sempre rimanere così l'audi usd inutile stare a perdere tempo completamente bloccato in laterale in questo rettangolo e questa diventerà un'area sicuramente importante un'area che magari potrà diventare importante in questa data quindi qualora il prezzo facesse così messe giù ok oppure diventare poi importante in questa data qualora invece per rompesse al ribasso e salisse ovviamente per come siamo posizionati adesso avendo un minimo il 2 di maggio mi aspetto dal punto di vista della probabilità più una rottura quantomeno considererei solo una rottura ribassista della lateralità per andare a chiudere il ciclo che è quello che tendenzialmente mi aspetto però servono comunque delle conferme c'è spazio fino alla media ciclica inferiore quindi una rottura darebbe l'opportunità al mercato di darebbe l'opportunità a noi trader di poter entrare perché appunto ci sarebbe spazio tra le medie medie cicli che ricordo essere veramente molto importante c'è una vtl che potrà essere un segnale di ingresso vtl del ciclo 10 giorni che quando verrà rotta ci confermerà il massimo di un ciclo a 20 giorni quindi ci consentirà di avere circa 10 giorni di possibile ribasso nello stato attuale ne abbiamo 9 quindi siamo borderline possiamo avere ancora un paio di giorni diciamo di lateralità poi deve rompere la vtl per poter avere il tempo di andare a cavalcarci tutto lo short che francamente mi piacerebbe molto al momento comunque rimaniamo fuori dal mercato e dall'analisi andiamo a vedere euro gbp euro gbp e abbiamo il primo massimo previsto già tra il 24 chiaramente impossibile perché era ieri quindi tra domani 26 morti di 27 ci sta il abbiamo già più un massimo ciclo interessante vedere due cose se la prima questo livello di fibo che è sballato non mi piace tracciarlo in maniera diciamo normale devo guardarlo da un punto di vista ciclico e da un punto di vista ciclico sarebbe direttore acqua e quindi lo ha già bello che è passato ora vado a prendere questi due quindi gli ultimi l'ultimo ciclo che questo quindi ciclo da 80 e secondo me è più corretto circa 80 vede un 38 2 molto vicino le medie mobile cicliche anche un 50 ok quindi molto probabile che mercato visto che tende ad andare a rivedere le medie cicliche si avvicini all'area 0 88 55 ok quindi io non entrerei long al momento aspetterei un paio di giorni per andare poi a posizionarmi short che avremo pochissimo tempo comunque per un possibile trade al ribasso andiamo a vedere che cosa ci dice euro gbp euro gbp vedete che abbiamo un bel livello di resistenza che ci dà un livello di area di 0 87 52 0 87 e 50 e corrisponde a questo livello qua ok stiamo vicini alle medie mobile cicliche vado a mettere la media 40 media 40 addirittura molto ma molto più sotto quindi l'abbiamo già bella carotta non la possiamo neanche più utilizzare quindi ci conferma la possibilità e la convenienza di andare a cercare un'operatività e bassista quindi rimanere un attimo in attesa vado comunque a segnare eventuali livelli per il long qualora qualcuno li voglia prendere in realtà lo va a dire vado a mettere qua per essere sereno guardate vado a mettere 0 87 77 in totale che non si entra eventualmente a mercato 0 87 e 67 ero giusto non mi ricordo già più 0 87 77 mannaggia che memoria 0 87 77 ok e per lo short ovviamente questa piccola supporto un'area poco significativa per me l'area più importante sarà questa e quindi comunque allo stato attuale questo 0 86 e 50 0 86 49 per uno short quello che mi piacerebbe vedere 0 86 49 e naturalmente vedere il prezzo risalire poi rompere allora avremo come target tutto questo livello sarà verrebbe fuori un gran bel trade chiaramente tutto ciò dichiarazioni improvvise della BCE e della Fed foraggiamenti di dinaro eccetera iper bolla degli indici io la chiamo bolla nella mia ignoranza ok comunque iper long super carico degli indici che continuano a portare l'euro ad apprezzarsi anche se c'è una sterline che comunque in fase di apprezzamento e quindi diventa una bella guerra sul cambio euro sterlina ok comunque come sapete ignoro totalmente quello che il mondo macro io mi baso esclusivamente sulla ciclica e sui miei livelli i risultati sono decisamente ma decisamente positivi andiamo a vedere adesso il crude oil quest'oggi farò il dax in più petrolio vedete che le analisi sono un po più veloci da anche la settimana prossima non commenterò più nulla mi limiterò a far vedere che cosa il sito velocemente i risultati della settimana e del mese in corso e basta quindi dentro i 30 minuti ci starà tutto anche meno allora crude oil crude oil siamo all'interno analizziamo in questo caso un ciclo da 166 cadere quindi un 20 settimane siamo alla fine del ciclo da 20 settimane quindi vuol dire che grossomodo più o meno poi nella data del 14 di maggio dovrebbe ripartire un nuovo ciclo e sempre da 20 settimane in questo momento siamo sopra le medie quindi consideriamo ancora esclusivamente operazioni a rialzo anche se siamo in chiusura di un ciclo importante ho tracciato anche se non la possiamo assolutamente ritenere ancora male da questa VTL ribassista del ciclo 40 giorni ricordo che le VTL sono trendline cicliche quindi tracciate in modo oggettivo perché hanno delle regole ben definite per essere tracciate e non sono soggettive come le normali trendline e ogni colore corrisponde a un ciclo quindi quando guardate il video guardate il colore se mi dimentico di dirlo e qui troverete la durata del ciclo in questo caso il blu corrisponde a un 40 giorni mi auguro che si veda presumo di sì in un monitor molto scuro per i problemi come si chiama la funzione notturna di filtro della luce blu quindi rimane un po' scuro però penso che si vede la scritta 40 giorni siamo sotto ancora abbiamo come diciamo VTL che sta contenendo prezzo anche se non proprio attaccato a questa del ciclo di 20 settimane che quindi come rimbalzo ci confermerà sostanzialmente il massimo del prossimo ciclo la continuazione del prossimo ciclo di 20 settimane a meno che non venga breccata allora vuol dire che il ciclo sarà un po' più lungo e che quindi bisogna andare a ritararla e comunque credo che al momento qualora venisse breccata potremmo confermare questo come massimo di un ciclo 40 settimane vediamo a 20 settimane perdono vediamo che cosa ci dirà il mercato successivamente no era giusto un 40 settimane quindi al momento della spinta rialzista abbiamo un massimo previsto grosso modo in data 30 aprile andiamo a vedere i livelli di prezzo petroglio questo è il gold petroglio allora petroglio è interessante ci sono un sacco di livelli in realtà che rompono un po' le scatole e questo non rende sicuramente agevole la nostra operatività ok abbiamo una tendenza a rialzo quindi la possiamo andare a cercare il primo livello importante è indubbiamente quest'area anzi in realtà più che un'area il livello è questo se vogliamo essere proprio pignoli il livello dove caspita l'ho tracciato qui addirittura mannaggia facciamo così vediamolo va il livello più importante perché non è ancora mai stato toccato è questo qui quindi vado a mettere sostanzialmente questa cosa qua questa qui ok questo qui oh e quindi sarà importantissima quest'area quindi sostanzialmente abbiamo a disposizione per un rialzo che io andrei già a a prendere su questo livello sinceramente quindi lo ignoro il fatto che l'abbia già rotto perché queste sono questioni imparerete eventualmente nel corso di analisi cicli e volumi iscrivendovi al programma formativo e vi invito caldamente a scrivervi a un programma al di fuori della normalità degli soliti diciamo strumenti che ormai tutti propinano sostanzialmente qui si analizza il tempo il tempo è qualcosa di di straordinario perché ci dice che cosa farà il mercato con tanto tanto anticipo il mercato è prevedibile non è vero che non è prevedibile non è prevedibile se analizziamo il prezzo che l'ultimo fattore da prendere in considerazione perché io ricordo che il prezzo è la risultante dei fattori non è il prezzo che diciamo è sostanzialmente il fattore che scatena tutto il resto assolutamente no perché noi qui abbiamo compratori e venditori compratori e venditori facendo la somma dei loro contratti vanno a generare un prezzo ma i compratori e i venditori a loro volta si muovono in funzione del tempo quindi quando siamo sul minimo ciclo avremo una predominanza dei compratori o meno di contratti che provocano un rialzo del prezzo e quando siamo sul massimo ciclo avremo la predominanza di operatori che vendono contratti ok quindi il prezzo in realtà è il terzo fattore il primo fattore è il tempo il secondo fattore sono gli scambi quindi il volume e poi c'è il risultante che è il prezzo invece la maggioranza dei trader dice che il prezzo dice tutto il prezzo ci dice tutto quello che è successo prima bello non serve a niente noi dobbiamo sapere quello che succederà prima con questo probabilmente a quale livello succederà con questo e la conseguenza è questo ecco perché nell'analista tecnico che si basa solo sull'analisi tecnica e non è vero che non funziona l'analisi tecnica ma la percentuale di riuscita che è del 50% 50-50 non una di più con l'analisi ciclica portiamo la probabilità fino a un 90% e lo testimoniano i miei trade perché con il servizio analisi abbiamo una profittabilità dell'89% che è tanta roba perché in realtà qualche trade errato proprio per il mio errore l'ho commesso nonostante i 6 stop loss dall'inizio dell'anno soltanto quindi lascio poi immaginare e il volume ci permette di entrare ovviamente nel punto corretto il momento corretto io lo sapevamo quindi mi raccomando studiate l'analisi ciclica e non credete sempre solo che non è vero che l'analisi ciclica non funziona perché chi dice quello semplicemente non era abbastanza evoluto dal punto di vista diciamo dell'elasticità mentale per poter studiare una materia complessa complessa non complessa allora veniamo noi il nostro bel petrolio io ho un long sopra 63 e 62 e 15 che è questo livello qua no 63 e 37 quanti livelli ci sono? ah perché c'è il prezzo che giustamente 63 e 31 lo andrai a prendere per quanto riguarda un rialzo QTI e invece per quanto riguarda un ribasso che ovviamente non andrai minimamente a prendere in considerazione quanto meno al momento attenderei comunque tassativamente questo livello quindi il livello di 58 e 43 andiamo a dire adesso il gold il gold lo registrando spero si intanto ho approfittato bevuto un po' allora gold gold è in una situazione particolare perché siamo in una fase rialzista multiday fuori di dubbio però è evidente che il prezzo è proprio incollato alle medie mobile ciclico sono già tre giorni ne vediamo anzi quattro giorni che tenta di rompere le medie e non c'è mai riuscito quindi io al momento continuo in questo momento a essere orientato finché non le romperà comunque a cercare indicazioni ribassiste ovviamente un ribasso un ingresso short andrà solo valutato in prossimità dei massimi previsti per il 3 di maggio anche se qua vedete che il massimo che era questa gobetta c'era anzi ve lo faccio anche vedere vado a moltiplicare per 8 e dovrebbe darci a cavolo ancora quello vecchio ci dovrebbe generare sostanzialmente vedete il massimo che è qua ok quindi in realtà siamo ancora in una fase ribassista il long dovrebbe arrivare poi intorno al 27 di aprile provo a rimettere un 4 perché è una durata più corretta per il tipo di analisi che noi facciamo questo indicatore è eccezionale perché consente di vedere un numero illimitato di sottocicli ok quindi in funzione di come il mercato muta durante la sua evoluzione noi possiamo andare a inserire e trovare cicli che in quel momento dominano il mercato ok un indicatore fisso con una durata fissa e il numero di diciamo di sottocicli fissi è fortemente limitante e non è assolutamente corretto per una previsione perché si hanno delle varianze enormi e all'interno dell'analisi ciclo non posso avere varianze di due mesi tre mesi in un ciclo di un anno perché non è non è giusto in un ciclo di un anno dobbiamo avere una varianza che non deve arrivare a 10 giorni ma non ci deve arrivare a 10 giorni di varianze se avendo più sottocicli da poter andare a inserire questo è possibile farlo e al momento si può fare con questo strumento in maniera veramente molto molto facile perché si possono identificare cicli e lavorarli veramente in pochi secondi cliccando e vi assicuro che guardando i video è immediato diciamo la immediato il capire l'andamento ciclo e poi io sono in prima persona sempre pronto ad aiutarvi nel canale a ottenere buoni risultati con l'analisi ciclo quindi gli alzisti dal punto di vista ciclo ahimè brutto perché siamo sotto alle medie non ho VTL nel senso che da prima l'unica VTL che ho a disposizione non è ancora tagliata è questa quindi VTL è circa 80 giorni abbiamo una 40 settimane che è quella che sta al momento sorreggendo il prezzo in realtà ne abbiamo un'altra però mannaggia è proprio di un ciclo piccolino di un ciclo di 10 giorni lo andiamo a mettere questo comunque sarà importante perché al momento sta sorreggendo il prezzo il colore di giusto se il prezzo dovesse rimanere qua e faticare ecco che se dovesse avvicinarsi al 3 di maggio ancora sotto le medie io la prima breccata la prendo la prendo perché ci darebbe una conferma di segnale ribassista andiamo a vedere i livelli che cosa ci dicono sul gold gold abbiamo un livello qua da prendere sicuramente in considerazione il prezzo in realtà si è avvicinato molto a questo livello qui vediamo una cosa molto interessante è che quest'area ed è molto probabile che il prezzo la vada a ritestare quindi io mi aspetto che gold eventualmente rompa un po' le medie mobili scusatemi si le medie mobili ma non andrei mai long fin quando non andremo a rompere sostanzialmente questo 1853 1831 che è un'area di riferimento molto importante vado a mettere comunque come livello per un rialzo perché è corretto andarlo a mettere la rottura di 1809 eventualmente protezione immediata del mercato ok proprio immediata del trade con già protezione in area 1831 anche se l'ideale aspettare la rottura delle medie e per quanto riguarda invece un ribasso ahimè non ne ho di livelli da poter utilizzare per un ribasso si potremmo avere anche se a me piace poco io gli do veramente poca importanza il livello della veglia area di diciamo della chiusura di questo ciclo che poi in realtà non si è ancora più si è già chiuso che era questo che era la chiusura del ciclo da 80 giorni ok quindi vado a mettere questo livello di supporto lo vado a spostare giusto un pochino anche se però il livello di volume è quello però lo vado a mettere qua 1761 per quanto riguarda lo short le date sono appunto quelle che vi ho detto precedentemente andiamo a vedere adesso il DAX e poi vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima il DAX la settimana prossima vi farò vedere il confronto tra un grafico volumi su il future perché ormai è tardi il futures in questo caso il future del DAX e i volumi su trading view del DAX allora da un punto di vista volume profile non cambia niente quindi si può lavorare serenamente anche con il forex farò vedere un euro dollaro future e un euro dollaro GFD non cambia nulla nel senso che la diciamo precisione aggiuntiva del del future per il volume profile è poco significativa ovviamente cambia tutto quando si cerca di andare a guardare proprio il il dettaglio più preciso per quanto riguarda i volumi quindi su livelli molto molto bassi ma andando a leggere il footprint quindi avendo necessità di leggere il singolo valore di volume allora in quel caso lì uno il CFD non ce li ha anche se ci sono alcuni indicatori per M24 che sono puramente commerciali perché non vanno assolutamente senso due non sarebbero comunque precisi per via dei prezzi dei CFD perché se voi prendete un future e i CFD stessa piattaforma ogni giorno la differenza tra la quotazione del future e quello del vostro broker CFD cambia e a volte io vedo utilizzo tanto per intenderci per comodità di tutti gli abbonati al mio diciamo i miei segnali uso il DAX di Oanda voglio dire che tutti possono andare a vedere e farsi il conto tanto per intenderci venerdì c'erano tre punti in differenza dal futures DAX giovedì erano 17 questo accomuna tutti i broker CFD quindi capite voi che andare a guardare il footprint non ha veramente logica sul CFD però invece i livelli di prezzo non cambia nulla perché i volumi quali sono nel modo più assoluto anche se in proporzione che sono molto proporzionati anche se da un punto di vista numerico sicuramente meno non ve lo faccio vedere adesso perché sono a midi lungo e già non l'avei dovuto dirlo perché ho portato via un po' di tempo all'analisi del DAX però la settimana prossima ci tengo a farvela vedere almeno siete tranquilli che quello che vi faccio vedere se vorrete utilizzare poi il volume profile dopo aver imparato come utilizzare insieme all'analisi ciclica nel mio corso potrete essere tranquilli ops stavo per segnare qua a livello orizzontale ma non vuole allora qui abbiamo il DAX il DAX è vicino a un minimo provvisto per il 23 quindi tra venerdì e lunedì avevamo un minimo ciclico e abbiamo all'incirca a disposizione un 14 giorni di rialzo però io se non erro non ce lo avevo così ma ce lo avevo a 5 sotto cicli perché 5 sotto cicli è decisamente più preciso e invece in questo caso avendo una precisione maggiore non abbiamo ancora una conferma di possibili rialzo perché questo ciclo qua questo che è comunque un minimo pardon questo qui che è un minimo viene dettagliato maggiormente qui teoricamente avevamo un rialzo ok viene dettagliato maggiormente del numero di picchi superiore vado soltanto a verificare allora in questo caso qui ci stava qua ci stava qui andiamo un po' era decisamente più preciso lo vediamo e anche la proiezione ricordo che questo è il ciclo di riferimento di analisi e questa è la proiezione quindi quello che vedete è ciò che avrebbe previsto l'indicatore a parte che lo vediamo sempre tutte le settimane ed è stato precisissimo quindi è molto più corretto questo vado a mettere un minimo in data 2 di maggio questo short del DAX ci pensare due volte al momento andarlo a prendere in considerazione ok quindi vado a sistemare non ce l'ho di là la data quindi siamo comunque in questo momento in fase di bassista ma siamo e me vicino alle medie abbiamo a disposizione circa 300 punti che in intraday comunque dovesse e verificarsi l'occasione mi andrai a prendere tutto quanto abbiamo una bella VTL il rottore della VTL ci darebbe comunque spazio all'incirca subito di 300 punti ma attenzione perché avremo tutta quest'area di ribasso fino al 2 di maggio quindi avremo diversi scalini dovesse il prezzo andare a toccare nuovamente la media mobile del ciclo principale ed è abbondantemente fuori dalla media avremo a disposizione all'incirca 1500 punti vediamo se riuscirò a cavalcarli qualora anzi qualora li faccia sicuramente li cavalcherò e se il prezzo scenderà o rimarrà in questa situazione dal punto di vista invece dei livelli DAX il DAX multiday è ben pastissimo come si dice dalla mia parte nel senso che è troppo laterale è veramente molto molto laterale noi abbiamo come primo livello di riferimento che al momento ha tenuto vedete parecchio perché è grigio che ha tenuto veramente ma veramente tanto che è quest'area qui quindi quest'area è un'area molto sentita dal prezzo infatti vedete che le aperture e le chiusure sono qua dentro lasciamo perdere le ombre che non mi interessano però le aperture e le chiusure sono qui quindi questa è un'area dove il DAX avvora molto ecco che il nostro livello più importante sarà questo qua quindi la rottura di 1,50 e 15 ci darà una bella opportunità ribassista e questa darà tanti punti perché avrà darà il trader che deciderà di ricavalcare un montale ribasso pronti via 500 punti che poi in caso di rottura appunto andranno a generare altri 500 punti fino a 1000 punti totale all'incirca per quanto riguarda il long il livello è questo non è un livello ma un'area è appena stata formata quindi è assolutamente valida e quindi solo una rottura dell'area 15.443 15.506 darà origine o possibilità di long prima non ne prenderei mai e poi mai qui c'era già stato un target prendo l'ultimo ciclo anche se non è ancora concluso e l'utilizzo per un ipotetico target rialzista ovviamente il 99% dei trader valutano esclusivamente questa possibilità che possa scendere non esiste e si faranno tanto male e questo è il livello di target principale per diciamo ovviamente il mio metodo lo vado a mettere dovrebbe essere qui no lo ho messo qua è vero etichetta di prezzo sono uno questo e l'altro questo qua ok quindi i livelli 16.148 e 15.850 perfetto io vi saluto vi aspetto tutti quanti abbonati al mio servizio segnali se volete veramente lavorare come dei professionisti con un professionista con un trade al giorno e poi state sereni senza preoccupazione di essere un overnight perché non fa figo ma fa pazzi essere un overnight in intraday e vi auguro buona settimana mi auguro che andiate a inserire un like a questo video se vi è piaciuto per il resto ci vediamo domenica prossima o lunedì prossimo ciao a tutti e un abbraccio